Musica Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Sky Conqueror In quest'altra isola che volevamo vedere la volta scorsa Qui allora troviamo intanto una cesta di benvenuto Isola 5 Ci sono 20 ceste del tesoro Isola 6 è locata a nord C'è quella là che vediamo in sfondo E ci sono... Ok, bene No aspetta cos'era le 7? Isola 7 è locata a ovest Isola 7 e... ah là, ok Bene Quella là è la 6 e quella là è la 7 Va bene Intanto voglio andare a visitare qui cosa c'è Qui c'è un buco E non mi sembra molto amichevole Quindi... allora... Provo a scendere Allora, arco Arto, vai via Tutto pure Mi servirebbe un arco con power Qualcosa Come ha fatto ad esplodere? Qualcuno me lo spiega Non ho ancora capito come Possa esplodere da solo C'è mio bene Quello è morto Quello è pure Questo qua no Ma adesso si Liberata un po' la zona Questo qua lo possiamo anche mettere in tasca Così Così Quel carriber lì non mi ispira fiducia Quello scaletro Menchè meno C'è una mosca qui che Non sopporto Mi giro andrà davanti alla faccia Diciamo che Non è una bellissima cosa Oh mio Dio Vai, vai su, vai su, vai su, vai su Ok Bene Mi sono salvato Per pochissimo Ok Quello lì Ok, è andato Bene Ripossiamo scendere Sperando che nessuno Ci rompi Le scatole Aia Appunto Ok, io qua non vedo niente Sì, bella situazione Quest'isola mi sembra un pochino complicata Ma quello che vedo Ok, lui c'è un tesoro Illuminiamo la zona Tu se stai lontano da me Mi fai anche un favore Grazie Becco in giarchi Che cacchio è Spadi Grande Bravo ragasso Non mi fido di andare al buio Infatti Grande Che sono scesi entrambi Per combattere Scesi per combattere Nuovo film Al cinema Ok Guardalo Anzi Guarda lì Guarda lì Che c'è il piccinacolo Ho visto per caso Della lava qui sotto Sì Qui però c'è anche un tesoro Anche là sotto c'è un tesoro Sono messo Bene Per non dire che sono messo da schifo Vediamo chi c'è qua sotto Ci sono loro La coppietta Mi sono andati giù Mi fate un grosso favore Grazie Ok, eliminiamo un po' la zona Bene Lava bucket Instant health Luck A cosa mi serve Fortuna Ah, non va niente Bene Allora piano piano Scendo Intanto Lì c'è uno zombie Che si vuole gentilmente Suicidare O ammazzare Ok, ho finito pure le frecce Quindi Piano piano Scendiamo Avevo visto Una cesta Ecco infatti Quella lì Vediamo cosa c'è Uh, golden apple Ok E qui c'è Quello Quindi che Quindi se mi butto Direi che Potrei non farcela Quindi vado giù Quindi vado giù Piano piano Anche se so già Che dopo Dovrò fare Un maledetto Pillar Pillar Ah Cibo Eh, sì Beh Il resto Non mi interessa Torniamo su Con 39 blocchi Ce la faccio Ho un forte dubbio Però se ho la pozione Della Fortuna In teoria Dovrei essere Abbastanza Fortunato Però sento comunque Uno zombie Ah E lì Visto Che fortuna Eh Un piccone Non ce l'ho un piccone Vabbè Vado su Con le scale Ah Devo tornare Pure su Da questa parte Ok Che Con Quale blocco Torno Su Ci sono Due pezzi Di terra Questi pezzi Di terra Potrei fare Questo Ok Dai Ce la Sto facendo Ok Qua non porto Tiense una parte Quindi direi che L'abbiamo già Visitata Tutta Questa parte Di caverna Ok Possiamo Tornare su Però è buio Quindi non so Se è una buona scelta Andare su Soprattutto perché Non ho blocchi Bisogna Non ho blocchi Dopo Potrei Bloccare Qui Ci sono pure Quelli lì Che a me Non piacciono Quindi Direi che Mi metto Una porta Direi che Da questo spessore Qui Da questo Bocchettino Qui possiamo Aspettare La luce Del sole Se avessi il letto Sarebbe Tutto Molto Più Comodo Ok È giorno Alleluia Torniamo In superficie Ci pareva Che c'era Questo Qui Che il gas Esplode Grazie Vai via Ok No Mi posso fare Mi posso fare La lana Giusto È vero Prendo le string Che mi faccio la lana Che mi faccio il letto Così passo le notti Più In fretta Quindi Dammi La tua Stringa Un'altra C'è un'altra Lana Due stringhe Per una Dai Tu Una Stringa Basta E avanza Ottimo Due Bene Qui Ora ci manca Il legno Che dovrò Spaccarlo A mano Quindi Mi faccio Crafting Table Qui sta arrivando Un creeper Molto simpatico Bene Vai via Vai via Grazie Poi ci prendiamo Un altro Pezzo di legno Bene Mettiamo Qui Un'altra Crafting Table Piazzata Totalmente A caso Poi ci facciamo Il letto Bene Posto Però possiamo passare Le nostre Notate Con calma Direzione Isola Il libro Dele Regola Non mi interessa No il letto Mi interessa Invece Grazie Isola 4 E Isola 5 Ma quella è la più vicina Secondo me O no Vabbè Io Vado qui Non mi interessa Comunque Ci vedremo Nella prossima Isola Cioè Quella E Per questo video È tutto E Bella